ragazzi vorrei ricordarvi anche una cosa molto importante le cartacce e l'immunizia in generale non hanno le gambe quindi non tornano a casa da sole come ve le siete portate in giro da piene quando avete mangiato il vostro snack ripiegate la carta la riponete in un taschino lo chiudete in modo da non perderla e ve la riportate a casa così come l'avete portata in giro quando era piena ok lo fate per voi lo fate per la natura va bene grazie